Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruni, in questo momento mi trovo nel Brunei. Eccovi qua, la città è bellissima, moderna, vi faccio vedere un po' una panoramica con qualche edificio. E qui, diciamo, guardate anche il parco auto, auto moderne, tutto sembra come una cartolina e qui vi ha un sistema molto vigoroso. Ecco, qui per esempio abbiamo dei poster che mostrano il tipo di crimine commesso, sono dei poster pubblicitari e il reo, ovvero il farabutto, l'impostore, il delinquente viene esposto pubblicamente, viene affissa la sua foto e viene ricercato ancora con i sistemi vecchio stampo che sono ancora quelli più funzionanti. Ecco qua, qui vi ha il numero da chiamare della Tax Force, se lo incontrate. Ecco, questo è un po' il sistema, come funziona da queste parti. Ecco, qui bisogna essere molto precisi ed è per questo che la città è molto precisa. Probabilmente è il luogo più preciso che possiamo incontrare nel Borneo e anche in quest'area qui dell'Asia. Ecco, ok ragazzi, continuate a seguirvi, vi farò vedere bene come è il Brunei, vi mostrerò tanti luoghi interessanti. Ci sentiamo alla prossima, ciao!